Passiamo sicuramente alla seconda fase, la costruzione. Due città costruisco io, due. Si ricorda quella piccola condanna del 2012 per frode fiscale? Fuori dalla mia macchina, fuori! Ci sono cose che in Italia non contano, sono stronzate, fanno curriculum. Si tratta di passare un anno ai servizi sociali. Comunque qua hai trovato il posto migliore, da mangiare il buono, c'erano gli armadietti. Ma alla fine in Italia la vita del povero è da paura. Se li andassero a prendere quelli veri, ma condannano a me che lavoro sempre. Il signore è con me! E soprattutto i rapporti su di lei qui dentro li faranno gli utenti, verso i quali lei dovrà dimostrare di provare empatia. Io direi che è meglio che te racconto la mia storia, ma magari è caduta, dovranno duvare. Sei pieno dei sordi? Ma che tu devo dire? Ma comincia a sganciare qualcosa, no? Tanto a livello umano non ci arriverai mai. Nel centro non può entrare roba non certificata dalle ASL. Ma per favore, ma ci parlo io col ministro della sanità. Dai, non giochiamo! Finalmente un po' di gente interessante. Se noi diamo, gli altri ci danno. Evidentemente è cominciato a dare. Allora, amico mio, mi vuoi dire come vi avete moltiplicati questi soldi? Per capire un paraculo, c'è un altro paraculo! In questi giorni io, senza telefono, ho perso 30 milioni. Però stanotte ho dormito da Dio. Io e te siamo fatti uguali, da bene. Ma tu c'hai avuto altre opportunità, ma non la basta la stessa. Ma mica sarei pregiudicato, no? Ah, tu sei pregiudicato, no io!